ho fame e la mamma porta il piatto di pasta, il figlio non ha più fame e dopo il figlio dice mamma ho freddo, la mamma porta la coperta e il figlio non ha più freddo con coperto il figlio non ha più freddo, poi il figlio dice mamma ho sonno, mamma chiude la finestra e il figlio dorme, dopo ma allora il figlio dice mamma ho paura e mamma dice perché hai paura non c'è più un bambino, non c'è più un bambino, c'è 35 anni, non c'è quello dal gioco tanto